musica bella a tutti ragazzi sono Pesco oggi sono tornato con un nuovo video su GTA 5 perchè volevo farvi ritornare ai vecchi tempi di GTA 4 con un piccolissimo easter egg facile anche allora dovrete andare su internet allora su internet nella ricerca dovrete scrivere allora dovrete scrivere BULL come vi faccio vedere BULL testo 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 sterone allora testo ok avviamo la ricerca eccolo qui dovrete andare su questo sito e appena entrati potrete vedere qui in alto a sinistra e chi ha giocato alla serie GTA 4 lo riconoscerà subito brusi che era appunto uno dei personaggi che vi dava molte missioni in GTA 4 che lavorava con te tu eri nico bellic e appunto è un testimonial di un prodotto praticamente allora insomma insomma andando a questa pagina potrete vedere brusi insomma ok che questo era anche un personaggio amante di auto e di palestra ok ora passiamo vi faccio vedere anche un'altra piccola non cioè non un easter egg però una piccola curiosità dovrete andare sul sito six six figure figure ora non ricordo bene tutto il nome completo vedo sono sbagliato ok ok andrete qui allora entrate su questo sito dovrete fare apply now allora questo sito è per diventare un corriere della droga se non sbaglio allora le risposte dovrete se non sbaglio metterle così allora sì no no e poi tutti ci ho provato varie volte e poi ci sono riuscito ok ora dovrete superare questa prova ovvero far entrare tutti queste sacchette all'interno del nostro corpo ecco niente riproviamoci una andata giù due tre tre ok ok c sette otto no no niente anche questa volta è morto riproviamoci un'ultima volta ora facciamo veloce vediamo no niente un'altra volta un'altra volta un'altra volta niente niente nove e niente ok ragazzi insomma vi ho mostrato questa piccola cosa è impossibile andare avanti oltre questo perché è impossibile anche arrivando a nove il nostro personaggio qui morirà cioè è inutile quindi provarci più di qualche volta vedete ok ragazzi vi ho mostrato diciamo questi piccoli queste piccole cose di gta 5 spero vi sia piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi lasciate tutti un bel mi piace ragazzi ci vediamo con il prossimo video ciao a tutti